Simonetta Tassinari ha scritto tanto, la sua è una penna versatile e raffinata. Nell'ultimo libro, edito da Corbaccio, dal titolo Quanto mai è emblematico, la sorella di Schopenhauer era una escort, è partita dalla sua esperienza di insegnante e come tale ne ha sentite tante da parte dei suoi alunni, errori esilaranti, giustificazioni inverosimili che nel tempo si è appuntata e ha voluto raccogliere in un libro che è un ritratto affettuoso e divertente della generazione digitale, quella degli smartphone e di internet. Mi sono trovato una vecchia agenda tra le mani qualche mese fa, perché normalmente io le segno di volta in volta quelle proprio più grosse, più immaginifiche, più esilaranti e ho detto perché no. Ne ho parlato con l'editore, ha detto sì, sì, va benissimo, mi sembra un'ottima idea ed è uscito la sorella di Schopenhauer, era una escort. La sorella di Schopenhauer era una escort e è stato presentato al liceo scientifico Romita dove Simonetta Tassinari insegna nell'ambito del ciclo di incontri dedicati a letteratura e discipline umanistiche e scientifiche. Un'analisi, quella della Tassinari, che va alla radice del bisogno di fingersi più bravi di quel che si è, ma non solo. Ci sono delle considerazioni naturalmente relative a questa generazione di studenti dai 16 anni ai 18-19 anni e di fatti è aggiornato all'ultima ora non solo per quanto riguarda gli errori, appunto alcuni dei quali veramente clamorosi, ma anche con le tecniche che si usano adesso per copiare, perché poi naturalmente si sviluppa anche una mentalità che dipende dai mezzi di cui uno può disporre, quindi probabilmente i nativi digitali hanno anche una mentalità diversa che riguarda non solo il loro rapporto con lo smartphone, anche un po' la vita, la società e la scuola. E per me è anche un ritratto affettuoso, perché come confesso poi alla fine posso essere anche una prof quando corre severa, però sostanzialmente io amo i miei alunni, passo con loro metà della giornata e auguro ovviamente sempre ogni bene e quando li sgrido, come fanno tutti i professori, lo faccio solo perché spero un bene più grande per loro. Tassinari nel presentare il libro è stata affiancata dalla sua collega docente Adele Fraracce e dal giornalista Enzo Luongo. Guardi, è soprattutto un atto d'amore, ci sono gli errori, ma sono degli errori che ci fanno sorridere e nello stesso tempo ci rimandano al tempo passato, perché vediamo che sono gli errori tra virgolette di intere generazioni e quindi il libro è anche un bellissimo dialogo tra i giovani e i meno giovani, un dialogo sereno, costruttivo, positivo.